11 aprile 2019 1970, alle ore 19.13 c'è il lancio di Apollo 13, che è stata una missione spaziale statunitense, parte del programma Apollo. Doveva essere la terza missione a sbarcare sulla Luna, dopo quelle di Apollo 11 e Apollo 12, ma questa è diventata assai famosa per il guasto che impedì l'allunaggio e resi difficoltoso il rientro sulla Terra. Venne disegnato comandante dell'Apollo 13, James Lovell, in sostituzione dell'astronauta Alan Shepard, nominato in un primo momento a causa di un'infezione all'apparato uditivo. Per Lovell, che aveva già volato su Gemini 7, Gemini 12 ed Apollo 18, si trattò del quarto volo nello spazio. Grazie. 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 Grazie.